Ti sei mai chiesto come fanno alcune persone ad essere sempre perfette, sempre messe bene, ad essere sempre a posto? Vedi che ci sono alcune persone che a livello estetico hanno un certo tipo di aura, come una presenza, e altre invece che sono comuni mortali, che semplicemente camminano e non attirano un po' l'attenzione, o comunque sembrano un po' a sloppy, non professionali. Dopo il video dell'altra volta, in cui settimana scorsa ho fatto vedere la mia shower routine, e quindi come gestire i capelli, oggi, dopo una richiesta, vi voglio parlare invece della parte grooming, quindi i peli, come radersi, come gestire le sopracciglia, come gestire la barba, eccetera. È vero, sul canale parlo tendenzialmente di crescita, crescita interiore, crescita personale, ma anche di cura di sé dal punto di vista esteriore, perché è importante, siccome viviamo in società, è importante non solo migliorare dal punto di vista interiore, ma anche cercare di, per rispetto proprio, per rispetto degli altri, anche gestire la propria parte esteriore, la propria parte fisica. Non solo migliora la nostra autostima, ma migliora anche il nostro modo poi di interagire nel mondo. Per farvela molto in breve, io sono ex Mr. World Italia, ho lavorato nella moda full time, per poi invece concentrarmi sull'arrivare alla versione migliore di me, non solo dal punto di vista esteriore, ma pian piano cambiando verso un focus interiore, e quindi documento su questo canale questo mio percorso. Tra l'altro ho aperto anche un canale secondario in inglese, in cui documento la parte più spirituale, se vuoi dargli un'occhiata il link è in descrizione, o anche il mio Instagram, per qualsiasi cosa puoi scrivermi lì. Ma la mia storia di grooming inizia molto prima, quando facevo nuoto. Ero un nuotatore agonista, ho fatto nuoto per 12 anni, ogni giorno avevo allenamento, ed ero arrivato a un punto in cui sono andato ai campionati italiani. Non è qualcosa di pazzesco, però mi ricordo che una delle cose che mi avevano consigliato di fare nel momento in cui sono stati ai campionati era quella proprio di radersi non solo la parte sopra, ma anche le gambe. Perché? Perché da per i nuotatori, che è sempre questione di millesimo, noi ci allenavamo per settimane per migliorare veramente di centesimi, per migliorare di decimi, e quindi si diceva che migliorava l'attrito, ma più che altro era una questione di sensazione, quindi dava più una sensazione di scivolare nell'acqua. Io non avendolo mai fatto, avevo provato. E avevo provato con la schiuma. Errore clamoroso. Si può fare, però alla fine i peli crescono male, ci sono delle cose che vanno a peggiorare quasi la situazione, e quindi quando poi sono entrato nel mondo della moda dopo che ho finito nuoto, cosa ho fatto per risolvere la cosa? Ho iniziato a fare la ceretta. Il problema della ceretta è che, uno, fa malissimo, due, è un po' costosa e tre, richiede tempo, perché devi andare proprio da qualcuno che te la fa, oppure devi fartela in casa, è difficilissimo, è un casino. Sarebbe quella più corretta perché strappa via i peli, come il silk peel, che è anche un'opzione, ma anche quello fa male, richiede tempo, e quindi, dopo aver fatto le mie ricerche, ho capito qual è la soluzione per me. Innanzitutto io mirado solo ed esclusivamente la parte sopra, i peli sotto li lascio stare anche perché non sono una persona pelosa, mirado solo pancia, petto e ascelle. Pancia e petto perché mi piace, nel momento in cui tolgo la maglietta, mi piace essere pulito. Invece le ascelle per una questione di igiene. Nel momento in cui andate a radervi le ascelle sotto le braccia, noterete che sudate meno e che i germi, diciamo che sono quelli che poi danno l'odore, fanno più fatica a crearsi, a riprodursi, tra virgolette. Quindi è più pulito, semplicemente è una situazione più piacevole. Quindi dopo vari tentativi, dopo aver provato varie cose, ho scoperto e ho notato che alla fine il rasoio, il caro, vecchio, buon rasoio, se fatto nel modo corretto, è l'opzione migliore per quello che voglio fare io. Ed è quello che vi farò vedere. Quindi io durante la mia shower routine, dopo che ho fatto lo shampoo, dopo che ho fatto il balsamo o la maschera o insomma quello che è, nel momento in cui ho da aspettare quei 10-15 minuti perché ho i prodotti addosso, ne approfitto per iniziare la mia grooming routine. Quello che faccio è, siccome che ho già fatto lo shampoo eccetera, quindi con l'acqua calda si sono aperti i pori e ho anche pulito il corpo, quindi prima cosa pulisci il corpo con un sapone, un bagno schiuma, quello che è, dopo puoi partire con la rasatura. Per farlo io consiglio una cosa, non solo un buon rasoio, io utilizzo un Gillette, che non è niente male, ho sempre usato quello, e uso due testine diverse con lo stesso rasoio, una per la faccia e una per il corpo, e consiglio un gel. Questo è game changer ed è il motivo per cui la maggior parte delle persone hanno problemi con radersi, perché li crescono troppo in fretta, perché si arrossiscono, perché creano peli all'interno che rimangono lì. Il problema è perché non utilizzano un gel. Un gel aiuta tantissimo non solo ad alleviare nel momento in cui date questo attrito, perché comunque state facendo attrito verso la pelle, ma aiuta anche a rendere la cosa molto più veloce, molto più facile, e i peli vengono anche tolti meglio, quindi proprio non vengono strappati ma vengono tolti. E mi dite, Marco sì, ma mi hai sempre detto che se vengono strappati i peli è meglio, perché poi ricrescono sempre meno, invece se continui a tagliarli è come se si irrobustissero. In realtà questa cosa è stata mezza smentita nel campo beauty. Più che altro possono, sì, ricrearsi in un certo modo, però non è che cambia così tanto. Se tolti in un certo modo alla fine ci mettono comunque un po' a ricrescere, ovvio che con la ceretta ci vuole più tempo, però non vuol dire che con la ceretta smettano di crescere e che col rasoio invece è un disastro, anzi. Quindi io consiglio il gel. Mettetevi il gel dappertutto, io utilizzo questo qua, King, qualcosa, ma prendete quello che vi pare, anche se è difficile da trovare un gel a rasatura. E quando sono stato a Miami al mio primo concorso di moda, Mr. Model International, mi ricordo che ogni ragazzo rappresentava un paese e il ragazzo del Messico, che aveva un fisico pazzesco, mi aveva insegnato a radermi perché io al momento non lo facevo. E quindi mi ha fatto vedere che con il rasoio devi fare verso il basso. Se fai verso l'alto, quindi contro pelo, diciamo che tagli meglio via il pelo, ma allo stesso tempo c'è possibilità che cresca male, incarnito, ne crescano più contemporaneamente, che ti vengono puntini rossi, che ti irriti la pelle. Quindi la cosa migliore è tirare un po' con una mano e fare con il pelo, quindi verso il basso, piano piano, piano piano, piano piano, dove tutto il punto dove volete fare, scelle, eccetera, eccetera, e basta. Poi sciacquate semplicemente nel momento in cui alla fine finite con la doccia fredda, aiuta anche un attimo a rinfrescare la zona irritata. Poi quando ho messo i prodotti per i capelli, finita la doccia, finita la doccia fredda, dopo che ho fatto le mie cose, deodorante, quindi allume di rocca che aiuta anche poste e rasature, quindi quello. Poi cambio la testina quando i capelli sono già lì, che si stanno preparando, ho già messo tutti i trattamenti, ho già messo i prodotti che vi ho fatto vedere nel video precedente. E nel mentre che sto aspettando, mi approfitto per fare invece la faccia. Cambio testina, faccio la barba, nello stesso identico modo, solo che uso una schiuma da barba perché mi trovo meglio. Poi le sopracciglia, ragazzi, un uomo o comunque una persona che, diciamo, maschile, non deve fare chissà che per la questione sopracciglia o altri peli, semplicemente dare una piccola forma. Tendenzialmente basta togliere la parte centrale, il sopracciglio qui in mezzo, il monociglio, e poi se volete dare una leggera forma solo sotto, magari togliere solo un pochino qui e basta, a posto. Il resto è tutto extra, non toccate sopra, non date forme strane, non andate troppo perché ho già fatto errori, ero finito al liceo senza completamente sopracciglia, e fatelo con la pinzetta uno alla volta. Ci vorranno cinque minuti, è un po' da soffrire, però fidatevi che va bene così. Non fate il rasoio, è stato un errore che ho fatto una volta e non lo farò mai più. E semplicemente, soprattutto qui in mezzo, fate un po' di spazio. Dovrete contare che più o meno, se prendete dalla bocca una riga che va sulla parte dove finisce l'occhio, la sopracciglia dovrebbe finire lì. Al contrario, di solito si guarda al naso, semplicemente per capire dove invece deve iniziare. Ma tenetela comunque abbastanza naturale, fidatevi di me. E poi unghie, quelle cose lì, semplicemente quello non c'è neanche da spiegare come si fa. Pro tip, finita il grooming, quindi tutto ciò, crema idratante. Una crema idratante, o comunque aloe vera, aiuta per alleviare tutta la situazione, e migliorare anche il periodo di guarigione, perché comunque avete stressato la pelle, eccetera. E questa cosa, sì, va fatta ogni totto, io la faccio una volta a settimana. Si può fare in realtà due volte a settimana, o quanto volete. Io per non irritare la pelle ho trovato un equilibrio, in cui, ok, ci sono i giorni in cui ho i peli che crescono un po', giorni in cui sono completamente pulito, però tendenzialmente una volta a settimana, quindi delle due docce che faccio complete, una è quella in cui faccio anche la parte rasatura. Quella in cui mi serve più tempo, perché ho la maschera, e quindi la maschera a confronto al balsamo, sui capelli ci vogliono 15-20 minuti, e quindi ne approfitto per fare questa cosa. Ovviamente nel mentre, come vi ho detto anche nell'altro video, dopo, se avete 15-20 minuti, e vi siete anche rasati, non sapete cosa fare, ovviamente, come vi ho detto nella routine capelli, anche il pettine dal basso verso l'alto, pian piano un centimetro alla volta, anche quello fa parte del grooming, quindi di farsi la tua elettatura praticamente come i cani. Ed ecco qua ragazzi, quindi non andate matti, cercate un vostro equilibrio, una vostra routine, in modo che pian piano diventi più semplice, più facile, e non distruggetevi. L'importante è che vi sentiate bene con voi stessi. Se vi interessa il video dei capelli di cui ho parlato, quindi l'intera shower routine, ve lo lascio qui se volete dargli un'occhiata. Grazie ragazzi, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!